Fratelli carissimi, buona domenica. Chissà, forse abbiamo passato una settimana come pecore raminghe, senza pastore. Avete visto delle pecore che sono senza pastore, vagano. Un greggio che è senza pastore si disperde. Manca la guida, manca qualcuno che si prende a cura di loro. Che le pecore sono nate per stare in greggio e per essere in paglia da un pastore. Una pecora senza pastore non vive, è la sua natura. Per questo è così vicino all'uomo, che senza Dio non può vivere. Ti muovi così, come una pecora senza pastore, disperse come pecore l'una nemica dell'altra. Pecore lontane e pecore più vicine, esattamente come ci dice San Paolo nella seconda lettura. Due popoli, due popoli con tua moglie, due popoli con tuo marito, due popoli con i tuoi figli, con i colleghi, con chiunque. Con un muro di separazione tra me e l'altro, che è l'inimicizia, dice San Paolo, cioè l'impossibilità di passare all'altro. Queste sono le pecore senza pastore, le pecore che per sfamarsi devono mangiare l'altro, vivendo contro la natura che è stata data da Dio a tutti noi. Pecore senza pace, senza la pace vera, la pace messianica, la pace di chi si sente profondamente amato e guidato, condotto dal buon pastore. E forse proprio oggi, in questa domenica, ci troviamo davvero come pecore perdute, senza pastore, e che quindi devono guadagnarsi da sole da mangiare, non essendone capaci, non conoscendo il cammino per raggiungere il pascolo erboso dove mangiare e riposare, dove essere veramente pecore, dove veder compiersi la propria vita. Non sappiamo, e allora dobbiamo faticare, dobbiamo occuparci mille cose, sperimentando quello che hanno sperimentato Adamo ed Eva come conseguenza amara del loro peccato di orgoglio. Hanno tagliato con il pastore della loro anima e si sono trovati nudi e obbligati a faticare, a vivere una vita difficile, grama, esattamente come le pecore senza pastore. Non trovano pascolo, lo cercano ma non lo trovano perché hanno perduto il loro pastore, hanno perduto il loro gregge, si sono separate. E l'autodeterminazione superba le conduce al fallimento di Adamo ed Eva, il fallimento delle relazioni, del lavoro, dello studio. Sudano, si affaticano, si sforzano, si impegnano e hanno un pugno di mosche nelle loro mani. Come te e come me, come pecore senza pastore, occupate contro natura a procacciarsi il cibo che invece la pecora obbediente, la pecora mite, mansueta, seguendo il suo pastore, trova gratuitamente. Perché il Signore dà il pane ai Suoi amici nel sonno, immagine della provvidenza, immagine della comunione, della relazione intima con Dio di una pecora che cammina nel gregge e si lascia condurre. E scopre in ogni evento, in ogni fatto, un pascolo meraviglioso dove nutrirsi dell'amore di Cristo che viene a farsi cibo proprio in quella situazione, in quella relazione, proprio attraverso quella persona. Oggi è domenica e arriva il Signore, che è il nostro pastore. Con Lui non manchi di nulla. Lui ci rinfranca, Lui ci guida per il giusto cammino. Che grazia immensa essere chiamati a vivere questi giorni nei quali è stato suscitato il germoglio giusto. Il pastore. Tutti noi, presbiteri innanzitutto, vescovi, maestri, professori, persone che hanno responsabilità pubblica degli altri, ma anche una madre, un padre nei confronti dei figli, un marito nei confronti della moglie, una moglie nei confronti del marito, un fratello nel confronto del fratello. Il nostro pastore è pastore e dobbiamo oggi forse ascoltare con contrizione del cuore che abbiamo noi disperso le pecore del Signore. Abbiamo disperso noi con il nostro atteggiamento, con il nostro esserci dispersi, a nostra volta, le persone che sono accanto a noi, impedendogli di andare a Cristo, scandalizzandole. Le abbiamo scacciate e non ce ne siamo preoccupati, convinti della bontà dei nostri giudizi, dei nostri pensieri, dei nostri criteri. Ma Cristo viene oggi e ci dice, io mi occupo di voi, mi occupo della pecora perduta e della pecora che ha perduto l'altra pecora, del pastore che non è stato capace di amare, di commuoversi. Per la pecora dispersa, per la piccola, per la povera, per la debole, per l'affamata, è il Signore stesso che raduna oggi, in questa generazione, il resto delle sue pecore, da tutte le regioni dei nostri peccati, delle nostre mormorazioni, delle nostre concubiscenze, delle nostre idolatrie. Lui le farà tornare ai loro pascoli, costituirà pastori. Oggi tu sei costituito come pastore che faranno pascolare le pecore, che faranno pascolare i fratelli, il greggio affidato loro, così che non dovranno più temere né sgomentarsi. Di esse non ne mancherà neppure una, nemmeno quel tuo figlio che ti sembra perduto. Perché come dice San Paolo, lui è la nostra pace, che viene a cercare la pecora nel posto peggiore, si ferisce delle stesse ferite della pecora per andarla a prendere, per mettersela sulle spalle e tornare sul cammino che la pecora ha percorso allontanandosi da lui. Bene, voi che un tempo eravate lontani siete diventati i vicini, grazie al sangue di Cristo, quel sangue che è colato sulla croce. Cristo è venuto a radunare ogni pecora, distruggendo l'inimicizia, distruggendo i giudizi, il voler impossessarsi dell'altro, possedere l'altro. Lui è la nostra pace, lui che pacifica il nostro cuore, che ci guarda con una commozione infinita, lui ci guarda con amore, senza giudizio. Lui che ha sperimentato nella sua carne la sofferenza dell'abbandono, lui sulla croce era la pecora più perduta di tutte, per andare a prendere la pecora più perduta di tutte. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato, dice, sulla croce? Dice al suo padre, e sono le parole della pecora perduta, dispersa, della pecora senza pastore. Il sangue di Cristo viene oggi a purificarti, quel sangue ha fatto dei due una sola creazione, di marito e moglie separati, un matrimonio nuovo, relazioni nuove con i figli, relazioni nuove ovunque, relazioni nuove con Dio, relazioni nuove con la storia, perché lui ci riconcilia con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce. Per questo possiamo presentarci oggi, in questa domenica, in comunione con lo stesso spirito al padre, come pecore del pastore grande, che è Gesù Cristo nostro Signore. E presentarci al padre significa entrare nel riposo, in questi pascoli dove non abbiamo niente da temere, perché Cristo è con noi anche se dobbiamo camminare in una valle oscura, perché la croce ci dà sicurezza. Lui prepara oggi, in questa domenica, davanti a noi una mensa, sotto gli occhi dei nemici che ci vogliono far disperdere di nuovo il demonio, le tentazioni. Lui ci cosparge di olio, di spirito santo, il nostro capo, la nostra ragione, il nostro carice tra bocca di gioia, di allegria, perché la Pasqua si compie in questa domenica, nella nostra vita, per abitare eternamente nella casa del Signore. Per questo inviati come pastori delle persone che ci sono affidate. Torniamo oggi, in questa domenica, e riferiamo a Gesù tutto quello che abbiamo fatto, insegnato, male, bene, le nostre sofferenze. Abbiamo un luogo dove sperimentare la sua commozione. Gesù non è indifferente alla vita di nessuno. Commuoversi, in questa parola, in greco, la relazione con le viscere di una madre, dove la madre si muove con, commuove con il suo figlio. Nelle viscere di Gesù, nel profondo di Gesù, c'è un muoversi insieme a te e a me, insieme ad ogni uomo. Cioè, entrare in una relazione così profonda, così intima come quella di una madre, con il suo figlio, con il figlio che porta in grembo. Gesù si commuove per chi lo precede, per chi vede Gesù Cristo passare con i suoi discepoli. Cioè, vede Gesù con la Chiesa che predica e annuncia il Vangelo. Ha visto dei segni di miracoli, ha avuto notizia. Ha visto, forse, che il suo cugino, che forse quel suo amico, quel suo collega, la vita gli è cambiata. E per questo precedono Gesù Cristo, precedono la Chiesa, precedono te. Quello che muove delle pecore senza pastore è la ricerca, molto spesso inconscia, nascosta, del pastore. Come un figlio che non ha conosciuto sua madre, cerca sempre la sua madre, nella fidanzata, nella moglie. Cerca qualcuno che dia un senso alla sua vita, che la possa prendere in mano, che la possa guidare, che la possa consolare, cioè possa entrare nella sua solitudine e riempirla. Qualcuno che dia un senso al suo fallimento, qualcuno che li strappi dal suicidio, dell'alcol, della droga, del gioco, da quella situazione angosciante di peccato. Tutto quello che ci muove, anche quel sentimento di giustizia, in fondo è quello che muove le pecore senza pastore. Per questo precedono Cristo. Attenzione, un peccatore precede Cristo. Lo aspetta Gesù che si commuove, si muove con ogni persona, lo sa. Gesù si è mosso con i tuoi passi, si è mosso con te, in tutti i momenti, in tutte le cose che tu hai fatto, anche nei peccati. È sceso lì, ti è venuto a cercare lì, non ti ha abbandonato un istante. Questo è il suo riposo. Cos'è il riposo nella scrittura? Il compimento di una missione. Il primo riposo qual è? Quello di Dio, nella creazione. Questo è il riposo di un apostolo, lo stesso riposo di Gesù Cristo. Dice, andiamo verso un luogo deserto, luogo deserto in ebraico, deserto. È una parola che ha relazione con Dabar, la parola, l'ascolto della parola. Tutta la scrittura parla del deserto come del luogo del fidanzamento, dove Israele ha potuto conoscere il Signore, dove ha ascoltato la parola, dove ha visto il Signore sul Sinai, non è morto, dove ha giunto la Torah come il sigilo dell'alleanza. Il deserto è il luogo dove non c'è da mangiare, non c'è da bere. Dove Lui le ha lasciate scacciare, perché sperimentassero che cosa c'è veramente nel loro cuore. Durante 40 anni, una generazione intera camminando per sperimentare quello che c'è nel cuore, che non può obbedire, che è debole, che è una pecora senza pastore, e che non può vivere soltanto del pane, soltanto di quello che esce dalla bocca di Dio, c'è dalla parola. Questo è il riposo. Dio che consegna, che annuncia la sua parola. Stringe un'alleanza. Questo si compie in questo Vangelo. Gesù, dopo la missione, porta i Suoi discepoli in un luogo deserto, in disparte, per riposarsi, cioè per entrare nel suo stesso riposo. Cos'è il riposo? Lasciare se stesso nelle mani di Dio. Come una pecora riportata all'ovile, che si abbandona alle cure del suo pastore, perché la pecora conosce la voce del pastore, che conosce intimamente la sua pecora, che si commuove, che si muove con la sua pecora. E per questo la pecora può riposare. Non è obbligata a pensare, a pianificare, a sforzarsi. Si abbandona completamente a Lui. Segue Lui. Si ripara dietro di Lui. Mette le sue zampe sulle sue orme. Questo è Dio che scende a riposare dove tu hai fallito. Allora puoi sperimentare il vero, autentico riposo. Incontrare Cristo laddove tu sei. Nella stessa tomba dove sei precipitato. Nella stessa solitudine che ti separa dagli altri. Una volta incontrato, una volta sperimentato il suo amore nella Chiesa, in questi apostoli, in questa comunità che ti viene a cercare, diventi parte dei discepoli di Cristo. Allora quello che ti muoverà sarà la commozione. E questo è un miracolo grande. Vivere mosso dai passi degli altri. Perché dentro le tue visceri c'è la vita di Gesù Cristo. Puoi amare veramente il tuo marito. Cioè puoi muoverti con lui. Puoi avere pazienza. Puoi non esigere con il tuo padre o con i tuoi figli. Puoi muoverti con loro. Puoi entrare nelle loro sofferenze. Puoi scendere riposando. Cioè il tuo riposo non è il muoverti neurotico per salvarlo, per fare, perché debba fare quello che tu dici. Tu riposi morendo nella morte di tuo figlio. E scendi dove lui. E lì gli parli. E gli annunci. La parola gli insegni molte cose. Cioè gli annunci la verità con la tua vita. Gesù Cristo può annunciare a te la parola della verità. Anche la più dura che denuncia il tuo peccato. Perché accanto c'è la salvezza. La porta del paliso aperta. Per questo tu puoi ascoltarlo. Perché lui ti apre contemporaneamente la porta sul cielo. Cioè la sua carne scesa dove tu sei. È la prova sulla quale tu ti puoi appoggiare per credere, convertirti e tornare a casa. Così è con tuo figlio. Se tuo figlio non ha una prova di essere amato. Non puoi ascoltare. Se l'apostolo, che sei tu, padre, madre, prete, quello che sia, non scendi, non ti muovi con le persone alle quali parli, tutto è vano. Gesù insegna perché dove le persone l'hanno preceduto. Tu sai che tuo figlio sta precedendo Gesù Cristo e tuo marito facendo così, tradendoti. Sta precedendo Gesù Cristo? Forse no. Allora oggi puoi sperimentare che tu, tradendo Gesù Cristo, lo stai precedendo. Cioè quello che ci muove è il desiderio di lui. E lui dà compimento e soddisfazione al nostro desiderio di essere amati, tendendo le braccia e dando se stesso. Questa è la cattura di Cristo, la croce. Oggi ci attira del suo riposo, oggi ci attirerà nell'eucaristia, in questo suo mistero di morte e risurrezione. Scende per farci risorgere. E chi vive e sperimenta questo, a poco a poco, è trasformato, egli stesso, in questo mistero di compassione per chi lì è accanto. Che sa compatire, commuoversi di questo hanno bisogno le persone che stanno accanto, di questo ha bisogno il mondo. Per questo sei stato scelto tu. Grazie a tutti.